salve a tutti raga benvenuti nel canale alienology io sono ali e oggi andremo a continuare la nostra storia con il gameplay di little hope in quello che sarà molto probabilmente l'ultimo episodio da quello che ho capito l'ultimo episodio appunto di questo gioco almeno della storia in singolo e delle mie scelte ovviamente volevo ricordarvi che questo gioco ogni scelta in questo gioco ogni scelta poi condiziona quello che poi succederà nel proseguo e anche determinerà uno dei finali che io farò quindi questa è la mia storia e io andrò praticamente oggi credo molto probabilmente a finire questo gioco infatti vediamo qui chiusura del cerchio casa in rovina vediamo quello che succederà io continuo a ringraziare voi che mi state seguendo che state seguendo questo gameplay ma comunque andiamo avanti e andiamo a vedere quello che succede in questo gioco come finirà insomma un po mi dispiace ma sapevo che non era un gioco molto longevo non era lungo però mi sta piacendo vediamo come si conclude poi trarrò alla fine le conclusioni per quanto mi riguarda le mie impressioni su questo gioco survival horror che è sempre il mio genere preferito nei videogiochi allora noi eravamo chiusi in questa casa questa casa in rovina non riuscivo a capire dove bisognava andare allora qui no assolutamente no qui nemmeno mi sa che era da questo punto dovevamo fare il giro e andare mi sa dove dove è daniel allora aspetta mi sa che di qui no non è qui non faceva aprire la porta anche perché poi si usciva allora allora qui qui avevamo visto il disegno insomma allora mi sa che era di qua qui non mi ricordo se l'avevamo letto lettera dell'Everendo Carson ma si sa che dovevamo andare alle scale dove avevamo visto la bambina però non ricordo da dove si va eccola qui eccolo qui che è stato la bambina deve essere di sopra dobbiamo trovarla prepariamoci agli altri jumpscare ragazzi è qui dentro aspetta lo sapevo ragazzi lo sapevo so che stavo per confessare tutto al giudice no aspetta mi proteggerete dovete aspetta non può essere assicuro tutti i presenti che la nostra città sarà libera dal gioco del diavolo forte dell'aiuto di dio Little Hope prevarrà è la mia parola la corte è stata celermente riunita per un motivo se vogliamo liberarci per sempre del male che infesta Little Hope dobbiamo agire subito io accuso te Mary di stregoneria a voi reverendo le prove emerse durante la mia indagine sono incontrovertibili Mary usa la sua bambola come famiglio per servire il demonio siamo stati ingannati da una bambina e dalla sua innocenza questa bambola ha causato l'ingiusta accusa di Tabitha ma è sempre appartenuta a Mary e Mary soltanto ha assistito all'esecuzione della sorella senza proferire parola questo non è vero bugiardo ora questa peccatrice questa figlia di satana osa scaricare su di me un servo di dio i suoi crimini è una follia sono tutti impazziti non intendevo arrecare danno alla città o agli abitanti potete aiutarmi? che posso fare? potessi intervenire per fermarli lo farei ma persino nella sua ora più buia questa degenere continua a invocare l'ausilio del diavolo aspettate chiedo il permesso alla corte ti prego di farmi da guida ti chiedo consiglio questo è uno strumento del democchio dobbiamo fermarli la vera follia si nasconde in questa corte Carver è lui il colpevole siamo stati sviati dal male la verità è stata occultata ma non da Mary è il reverendo Carver colui che ci ha spinto a credere nel democchio pace è tutta opera sua non ci ingannerai più ormai le tue intenzioni sono evidenti io eppurerò questa città da qualsiasi male quello che dice è giusto è Carver il colpevole qui cosa devo fare perché a Little Hope torni la luce ho timore del reverendo e della sua reazione devi fermare Carver è colpa sua non capisci vuole condannare Mary per salvarsi la pelle so cosa bisogna fare fermi che senso ha tale indignazione ciò che ho appena udito mi disgusta nel profondo dovrete rispondere di accuse estremamente gravi come può un servo di Dio comportarsi in Cotalguisa Mary le tue pene sono finite sei libera di andare storti ingannati da una bambina non scorgete la sua natura la verità vi fissa dai recessi dell'inferno eppure non vedete la figlia del diavolo ha ingannato voi non me io lo so io lo so meretrice di satana pagherai per i tuoi crimini sono stato tra i primi a cedere alle tue malie ma ora tutta Little Hope è tua succube non so steppitarmi senza di te sarei morta mi hai salvata ti ricorderò in eterno e allora? non ti ho salvata bella questa parte ragazzi molto importante proprio è credo decisiva per tutte le sorti del gioco vediamo cosa succede hai fatto un gran numero hai fregato il prete e salvato la bambina bel lavoro andiamo cosa è successo? hai visto la bimba? Mary? è finita siamo liberi ed è tutto merito di Andrew ma davvero i mostri non ci sono più? cioè comunque ragazzi volevo ricordarvi che nel penultimo episodio prima di questo purtroppo sono andate cioè sono morte le due donne del gioco cioè Taylor e Angela mi è dispiaciuto soprattutto per Taylor per la ragazza più giovane però purtroppo è successo ora stiamo andando avanti vediamo come si conclude il gioco dai sono curioso e spero lo siate anche voi lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo che succedeva qualcosa ragazzi è morto anche John professore però potevano stare attenti ad uscire non è che esci subito e non trovi nessuno mannaggia allora sono rimasti soltanto Andrew e Daniel sono rimasti soltanto Andrew e Daniel ehi parlo con te ma questo è Vince dovevi sparire e non tornare più qui non potrò mai perdonarti per quello che hai fatto non voglio guai ok? ce ne andiamo e non torneremo l'unico posto che ti meriti è l'inferno assassino figlio di puttana è lui cosa? attento il bastardo ha una pistola che sta succedendo? all'aria di uno un po' confuso no vi prego un attimo avete frainteso ma che è sto finale? no ragazzi c'è Vince era il ragazzo della sorella no ragazzi questo è è l'autista l'autista del pulmino del pullman ho sbaglio stiamo deviando il traffico a Little Hope è tutto ok? all'aria di uno un po' confuso sì sto bene voglio soltanto portarli a destinazione non c'è nessuno dubito che un lieve ritardo possa causare disagi c'è vedere dal punto di vista dell'autista del pullman ma la smettete di parlare? non è così che troveremo aiuto e neanche una via d'uscita ehi la come va? mi scusi stiamo cercando il nostro autista come? l'ha visto? sì divertente perché non ti bevi un bicchiere? meglio di no grazie è sempre stato lui devo restare lucido lo sto capendo ragazzi se potesse sì insomma darci una mano gliene saremmo gratis darvi una mano non non però non 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 sta ripercorrendo tutta la storia con l'autista protagonista Anthony dubito si renda conto in che casino siamo cioè non lo so se ha sognato e immaginato tutto è ok andrà tutto bene infatti non c'è più Daniel cioè la mia teoria è che forse erano morti tutti allora boh ora sentiremo il curatore e questo così pare è quanto per ora almeno si può sempre provare di nuovo sperando di giungere a un esito diverso eh sì è questo il problema con i demoni se non puoi metterli a tacere seguitano a tormentarti niente male direi alcuni hanno trovato riscatto e altri no ogni scelta conta e infine l'abbiamo trovato l'autista finalmente ora può lasciarsi il passato alle spalle alla prossima magari nel sud del pacifico o nel deserto arabo oppure in un altro luogo ma ci rivedremo ancora almeno un'altra volta è finito così ragazzi è finito così un finale un po' strano almeno questo che ho fatto io è una mia storia è un finale strano sono morte prima le due donne le due ragazze Taylor e Angela poi alla fine è morto anche John mentre erano rimasti soltanto Andrew e Daniel Andrew è stato come diciamo arrestato ma in realtà non era lui ed era l'autista nel pullman cioè Anthony convinced che lo accusava incredibile ragazzi incredibile davvero posso dire veramente che mi è piaciuto il gioco io spero che vi sia piaciuto vi sia vi sia piaciuto anche a voi questo è uno dei finali del gioco non si può andare avanti mi sto premendo i tasti ma comunque sì io spero che vi sia piaciuto a me sinceramente è piaciuto il gioco molto più di Man of Medan meno di Until Dawn perché dei tre Until Dawn è il migliore secondo me però devo dire che mi è piaciuto più di Man of Medan questo finale così non me lo aspettavo per cui complimenti alla Supermarket Games per questo finale per questo gioco devo dire davvero che torno a ripetere che mi è piaciuto per cui ragazzi io vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia sul mio canale YouTube Alienology voglio ricordare per chi non è iscritto di iscriversi e di attivare la campanella per le notifiche questo è stato il mio finale ovviamente in privato rigiocherò il gioco lo rigiocherò per vedere come andrà a finire con un altro finale però questo è il mio finale ragazzi a sorpresa è stato un finale incredibile ma il gioco comunque mi è piaciuto grazie a tutti grazie a tutti ci vediamo con il prossimo gameplay devo ancora decidere quale ma comunque ci vediamo con recensioni o con altro che appunto io porto sul mio canale grazie a tutti alla prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti